Il risultato di questa notte ci riempie di gioia perché la dimostrazione è che questo centro-destra unito sa governare e sa essere apprezzato dalla gente. Quando ho sentito Antonio Tajani mi ha detto Silvio Berlusconi sopra le nuvole starà sorridendo. Io credo che davvero sia così, a un certo punto ci ho creduto, era un auspicio e poi alla fine mi sa che lo sfioriamo quel 15%.